Musica Quindi è un pellegrinaggio che esprime un rapporto profondo con la Chiesa di Roma. Potremmo dire che da lì tutto è partito e lì tutto torna? Allora, è un pellegrinaggio e proprio per ricordare che è un pellegrinaggio, oltre alla visita di Casteri della Curia Romana, come dicevamo poc'anzi, c'è anche la visita di fede, di devozione e di preghiera alle quattro basiliche maggiori. Da San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni Laterano, San Paolo fuori le mura. E in ognuna di queste basiliche noi insieme concelebreremo e ovviamente porteremo ai Santi Apostoli e al cuore della Chiesa Cattolica l'esperienza e i bisogni delle nostre Chiese particolari. Da lì tutto è partito, ma mi permetto di dire che tutto è partito da Gerusalemme. E perché il mistero della nostra salvezza si è compiuto lì. Ma dov'è la differenza tra Gerusalemme e Roma? Ecco, Roma, per volere di Dio, per la presenza dell'Apostolo Pietro e dell'Apostolo Paolo, è diventato il centro, il cuore della cattolicità. Della Chiesa Cattolica, intesa proprio nella sua universalità, come sacramento universale di salvezza. Allora possiamo dire che tutto è partito da Gerusalemme come mistero di salvezza e come comando di andare in tutto il mondo a portare il Vangelo e la buona novella della salvezza. Ma Roma è diventato il centro da cui promana l'unità della Chiesa e il suo essere cattolica, universale. E allora, proprio perché il centro della cattolicità, giustamente la domanda dice, da lì tutto parte come centro di unità e lì tutto torna per essere certi di appartenere alla comunione ecclesiale. Da Gerusalemme parte il Vangelo di salvezza. Da Roma parte e a Roma si torna per essere certi della fedeltà al Vangelo e della appartenenza alla comunione della Chiesa.